Ligari vandalizzata, da lunedì lezione in trasferta, giardini sassi liberi dal bivacco selvaggio, olimpiadi sostenibili per il benessere a lungo termine, autovelox di via volta chiavenna, multe da annullare, leopardi apre la biennale di Sondrio, Sondrio Rugby, tutto è pronto per il campionato. Benvenuti a una nuova edizione del telegiornale di Telesondrio News, l'appuntamento quotidiano con l'informazione. Vediamo insieme le notizie di oggi. Ci auguriamo che non sia per tutto l'anno, ma di certo non le stiamo facendo spostare per una settimana. Nel pomeriggio di oggi Ombretta Meago, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Sondrio Centro, ha avuto incontri online sia con le famiglie che con i più di 300 alunni della media inagibile esattamente da una settimana, in seguito al raid vandalico per il quale ancora si cercano i responsabili. E mentre il cerchio attorno a loro si sta stringendo, dopo cinque giorni di didattica a distanza, se contiamo anche quello di domani, la lunedì gli studenti, divisi per sezione, torneranno a scuola in presenza ma in sedi separate. Tre classi al vicino Pio XII, altre tante all'Istituto De Simoni e al Liceo Piazzi Perpenti e sei all'Istituto Besta Fossati. A parte il Pio XII, spiega Meago, gli altri istituti sono tutti al campus, dunque sarà più agevole spostarsi da una classe all'altra per i vari docenti. Entrata alle 7.45, splettato ogni aspetto burocratico, compreso il plush dei genitori per gli spostamenti in autonomia a casa, scuola, casa dei ragazzi, gli alunni della Ligari per i primi giorni troveranno all'ingresso delle scuole provvisorie anche chi li guiderà alla propria aula. Sono state giornate frenetiche, non posso che ringraziare per l'enorme disponibilità il comune di Sondio e tutti gli uffici, dichiara la dirigente, che un plauso speciale lo rivolge proprio ai ragazzini. Sono orgogliosa di loro, dice, hanno preso sul serio anche questi giorni di didattica integrata. Sono dispiaciuti per quanto accaduto e stanno dimostrando con i fatti il proprio attaccamento alla scuola. Scuola che ad oggi e per un bel po' di tempo ancora, è frequentata però da tecnici ed esperti alle prese con le verifiche sulla sicurezza dell'edificio vandalizzato e allagato. Continua la lotta contro l'inciviltà urbana che ha suscitato preoccupazione tra i cittadini di Sondrio negli ultimi mesi e proprio qualche giorno fa tre provvedimenti di divieto di accesso a specifiche aree urbane sono stati emessi dal questore di Sondrio nei confronti di tre uomini che si sono resi responsabili di vari episodi di bivacco, ubriachezza, molesti ai passanti e turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica nel centro storico del capoluogo e in particolare nella zona dei giardini sassi. I provvedimenti sono stati emanati nei confronti di un cittadino indiano di 48 anni che più volte nell'arco dei cinque anni si è reso responsabile di reati contro il patrimonio, di ubriachezza volontaria, di atti contrari alla sicurezza urbana e nei confronti di un uomo di 41 anni di Sondrio a cui nel solo anno 2024 è stato contestato lo stato di ebrezza alcolica per ben nove volte dalle forze dell'ordine. Il terzo divieto di accesso alle aree urbane è stato adottato anche nei confronti di un uomo di 66 anni di Sondrio, anche di più volte sanzionato per ubriachezza nel corso dell'anno e cheppure risulta condannato dal Tribunale di Milano per aver commesso delitti contro il patrimonio. Sondrio ha accolto la terza giornata del quinto forum regionale per lo sviluppo sostenibile, evento che ogni anno apre le porte al dialogo tra istituzioni e territorio sul futuro della Lombardia. Tema principale scelto per questa edizione è l'economia circolare, secondo quattro prospettive diverse. Oggi la tappa di Sondrio è proprio finalizzata a ragionare e pensare sullo sviluppo sostenibile in tema di sport, turismo e ovviamente il grande evento olimpico che riguarderà in gran parte questo territorio. Sport e turismo devono essere al centro della questione sostenibilità, il primo perché essendo un alleato della salute e della coesione sociale è capace di dare valore ai paesaggi ed ecosistemi sani, mentre il secondo deve avere una nuova consapevolezza di rispetto ambientale sia da parte del viaggiatore che del territorio che lo accoglie. Le olimpiadi sono davvero un'occasione straordinaria per il territorio della Valtellina, per il territorio della provincia di Sondrio ma anche per il territorio della provincia di Lecco di cui io sono rappresentanti, qui con me c'è anche il presidente della provincia di Lecco, Alessandra Hoffman. Ambiente, sport e turismo sono le parole chiave che hanno informato moltissime delle politiche di regione Lombardia a sostegno dei nostri territori e credo siano stati investimenti importanti perché l'ambiente è qualcosa che bisogna vivere e per poterlo vivere servono anche le infrastrutture. Durante il forum si è posto l'accento sul valore aggiunto, rappresentato da un turismo che limita gli impatti dei trasporti, si distribuisce con più uniformità tra le stagioni e le destinazioni e sceglie attività rispettose delle comunità locali. È forte il nostro impegno nel tenere vivo lo scalo ferroviario di Tirano che ci permette di spostare numerosi camion dalla strada al ferrovia. In ambito trasporto su gomma stiamo credendo molto nella conversione dei camion diesel a mezzi alimentati a gas naturale liquefatto e questo è un'azione molto concreta come impatto ambientale sul territorio. Posizionato nell'agosto del 2019 per rispondere all'appello di una serie di residenti esasperati dalle vere e proprie corse in auto che si verificavano lungo il tratto, l'autovelox è quello famoso di via volta a Chiavenna. Famoso perché dopo due mesi e mezzo dal suo posizionamento qualcuno lo prese a fucilate. Il motivo è presto spiegato, il numero stratosferico di sanzioni salatissime pure che nel giro di pochi mesi avevano superato quota 6.200. Ora se ne torna a parlare perché così com'è il rilevatore di velocità sarebbe fuori legge. Il prefetto scrive nel decreto strada extraurbana comunale. L'articolo 2 del codice della strada, la strada extraurbana comunale non la contempla. O è extraurbana o è comunale. Quindi mi piacerebbe capire dal prefetto e dal comandante della polizia locale se è una strada extraurbana e quindi non può avere il limite di 50 all'ora o se è una strada comunale e allora hai 50 all'ora ma mi tolgono l'autovelox. C'è poi il capitolo multe. Nel 2021 e 2022 sembrerebbe che il comune non abbia elevato alcuna sanzione. Quando invece i cittadini ci dicono il contrario. Non sappiamo ovviamente con certezza il numero ma siamo arrivati a sentire 8.000 multe quantomeno però dalla rendicontazione risulta zero e questo è molto strano. Quelle strumentazioni non sono debitamente omologate quindi non abbiamo la certezza delle velocità che rilevano e fino ad oggi quindi le sanzioni sono state elevate con strumentazioni illegittime ed illegali. Oggi ha preso il via la Biennale di Sondrio, una prima edizione che si preannuncia ricca di eventi interessanti a partire dalla conferenza che si è tenuta questa mattina in biblioteca civica Pioraina dedicata a Giacomo Leopardi. A parlare il grande scrittore e critico letterario Vincenzo Guarracino che partendo dagli appunti per la lettera a un giovane del ventesimo secolo scritte all'interno dello Zibaldone ha raccontato di quanto l'autore di Recanati prospetti la nascita dell'umana compagnia che possa portare avanti i valori di fratellanza contro la presunzione del secolo superbo e sciocco. Il tema che vuole appunto portare avanti il progetto alfo di V con questa rassegna. La gioventù e la bellezza come mezzi per trasformare il mondo. I giovani sono i portatori del cambiamento sociale che deve passare attraverso il bello dell'arte. Sondrio quindi diventa un crocevia di idee per un futuro sostenibile e inclusivo proprio quello di cui parlava Leopardi quasi 200 anni fa. Tanti gli eventi in programma da oggi al 13 ottobre. Per maggiori informazioni è possibile consultare il programma su www.biennaledisondrio.eu Il campionato sta per cominciare e il Sondrio Rugby è pronto a partire per questa nuova avventura in Serie B con l'obiettivo di migliorare dal punto di vista tecnico-tattico e consolidare la squadra. Con Antonio Zanichelli, il nuovo tecnico al comando, il Sondrio Rugby parte sicuramente con una marcia in più e lo dimostrerà nella prima giornata del campionato il prossimo 13 ottobre. Per il campionato siamo pronti nel senso che ci stiamo allenando bene. Abbiamo come ho detto più volte, abbiamo una panchina corta, non siamo tantissimi quindi diventa difficile per un campionato di livello superiore come questo. Antonio Zanichelli si appresta a guidare quindi i bianco-blue verso nuovi obiettivi in una stagione che sarà sicuramente intensa e difficile accompagnato dal direttore sportivo e amico Luciano Gorla. Appuntamento importante sabato 5 ottobre alle 16 al campo Cerri Mare con il Memorial Jimmy. Una giornata per ricordare Jimmy Grillotti, storico giocatore e allenatore scomparso prematuramente. È tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata con i programmi di TSN. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata con i programmi di TSN.